Torniamo a parlare di Erwin Rommel, l'uomo, il soldato. Abbiamo parlato anche del Rommel uomo di casa. Ora è il tempo della parte più nota, almeno a livello sia di cultura di massa che di storia. È una parte che abbiamo deciso di intitolare, la leggenda della volpe del deserto. Erwin Rommel arriva a Tripoli, in Africa settentrionale, a metà del febbraio del 1941. Ha ricevuto ordini precisi al quartier generale dell'esercito tedesco. L'operazione Sonnenblume, girasoli, varata dall'Oher, è un'operazione quasi di soccorso all'alleato italiano che si è ritrovato in serie difficoltà nello scacchiere desertico. Appena un paio di mesi prima, all'inizio di dicembre 1940, il maresciallo Graziani ha perso tra Sidi e il Barrani e la ritirata lungo la Cirenaica, un'intera armata. Non l'ha persa come si può perdere un portafogli sull'autobus o in metro. No, l'ha persa perché le divisioni che componevano questa armata sono state annientate dagli inglesi e dagli australiani. Annientate nel deserto dove Graziani ha sbagliato completamente la strategia. Si è comportato da vecchio centurione romano che avanza di un po' di chilometri, si ferma, crea il campo trincerato, alle spalle costruisce la strada, l'acquedotto e tutto il resto. Una tattica di guerra vecchia, non applicabile negli ampi scenari del deserto. L'obiettivo di Rommel e la sua missione è quella di tenere a tutti i costi la linea della Sirtica, evitare che l'Italia perda anche la Libia dopo che ormai anche l'Africa orientale è prossima a essere in parte restituita al Negus e per il resto presa completamente dagli inglesi. Ebbene Rommel arriva a Tripoli, può contare su due divisioni, in realtà all'inizio conta solo su una divisione, la quinta leggera, la light del generale Stryker, e ha l'obiettivo appunto di tenere il posto, evitare una ulteriore crisi per l'alleato italiano. Come abbiamo già ricordato, uno dei primi impatti con la nuova realtà è il dialogo con gli ufficiali italiani, che si stupiscono per quella pur l'emerit guadagnata a Longarone. Ma non ci si ferma lì. Rommel nel giro di qualche settimana analizza la situazione e la analizza molto bene. Capisce che gli inglesi possono contare almeno a livello di mezzi su una certa superiorità, almeno nei confronti degli italiani, che in gran parte si appoggiano ancora su divisioni largamente appiedate, con una piccola dotazione di veicoli da trasporto e con una componente corazzata il più delle volte di scarsa efficacia. Come si combatte tutto ciò? Con l'inventiva. Qui emerge parte della genialità di Erwin Rommel, che chiede ai ingegneri tedeschi e italiani di provvedere, installando su alcuni camion dei motori d'aereo, in modo tale che, viaggiando nel deserto, alzino grosse colonne di polvere e sabbia, in modo da ingannare i ricognitori nemici, da far credere che ci siano delle enormi colonne corazzate in marcia. Oppure segando dei vecchi pali del telegrafo e verniciandoli in modo da farli sembrare dei cannoni anticarro, anche se in realtà non lo sono. È l'inventiva applicata all'esigenza del momento bellico. Non solo, Rommel viene a sapere anche della resistenza di un caposaldo italiano a sud del Jebel Cirenaico. Quel caposaldo diventerà epico, Jarabub. Comandato dal maggiore, poi tenente colonnello Salvatore Castagna, resisterà a lungo. Ebbene, Rommel, uno dei suoi primi atti è quello di mandare un messaggio a Jarabub. Resistete. Tra qualche settimana saremo tra voi. Purtroppo il messaggio che comunque rincuora Castagna e i suoi uomini, che gli dà, diciamo, una nuova speranza, una nuova capacità anche di affrontare quelle che sono le tante difficoltà, non basterà a evitare la prigionia ai difensori di Jarabub. L'OASI cadrà il 21 marzo del 1941. Dieci giorni dopo, esattamente dieci giorni dopo, Erwin Rommel decide di provare una delle sue puntate offensive. Diventeranno note così. Un modo per assaggiare la preparazione del nemico. Nemico che nel frattempo ha dovuto trasferire gli organici di tre divisioni in Grecia per supportare lo sforzo bellico degli ellenici aggrediti proprio dal reggio esercito italiano. La prima puntata offensiva di Rommel è a Marcel Brega, nel pieno della Sirtica. Dovrebbe essere una punzecchiatura, una puntura di spillo. Invece Rommel ci prende gusto, perché a sera, a fronte di perdite esigue, e ricordiamo che ancora non dispone della quindicesima panzer, non solo il padrone del campo, non solo ha messo in fuga gli inglesi, ma gli ha anche distrutto 30 carri e 50 autoblitto. Insomma, il primo approccio di Rommel col deserto è stato molto positivo. Soprattutto Rommel vede nel deserto delle opportunità uniche per la guerra di movimento. Per lui è il paradiso, la possibilità finalmente di sfruttare al massimo tutte le potenzialità dell'arma corazzata. E allora cosa fa? Vede gli inglesi in fuga? Se ne frega dei richiami di Gariboldi, che sarebbe il suo superiore in grado italiano, finge di non capire l'italiano, chiede ordini solo in tedesco e prosegue per la sua strada. Divide le forze in tre. Tre direttrici. Una direttrice costiera, rappresentata da quello che resta delle divisioni italiane appiedate e dal reparto di ricognizione della Quinta Leggera, marcia su Bengasi. La troverà sgombra, gli inglesi se ne sono già andati. Un'altra colonna, con la divisione corazzata italiana Ariete, marcia attraverso il Jebel Cirenaico. Infine, il reggimento corazzato della Quinta Leggera taglia il deserto a sud del Jebel. L'obiettivo è raggiungere il vecchio confine con l'Egitto e tagliare fuori le forze inglesi e australiane. È una manovra incredibile, una manovra eccezionale che riesce, anche perché Rommel non è il classico generale da scrivania, è un generale da campo. Si espone molto, si espone col suo veicolo corazzato, oppure in volo col suo aereo leggero. Proprio in volo magari si accorge che una colonna ha leggermente deviato la territoria. Dà subito l'ordine via radio e la fa correggere. Oppure ne vede una ferma. Atterra, cos'è successo? Chiede. Finita la benzina. Ok, state fermi lì. Rommel torna indietro, trova la benzina, gliela riporta indietro alla colonna e dice, bene, avete il carburante adesso di volata verso l'obiettivo. I soldati tedeschi cominciano ad idolatrarlo. Anche agli italiani piace, perché non erano abituati a vedere generali sul campo della battaglia, soprattutto che intervenissero così direttamente. C'è chi dice che Rommel faccia il generale davanti ai comandanti di reparto, che faccia il colonnello quando si trova davanti a un reggimento e che faccia il capitano davanti a una compagnia. Insomma, trova sempre il modo giusto per dare gli stimoli giusti ai suoi sottoposti. Fatto sta che nel giro di pochissimo tempo la Cirenaica è riconquistata. Non proprio tutta. C'è una spina nel fianco. Si chiama Tobruk, la piazza forte che è già stata un simbolo della guerra e che diventerà un ulteriore simbolo di resistenza da una parte e di assedio dall'altra. Ed è qui che Rommel sembra quasi rinnegare il suo demone della velocità, perché non riesce a prendere di infilata la piazza forte. Gli australiani comandati dal generale Muhred si sono trincerati all'interno della città. Allora Rommel cosa fa? La prima volta parte l'assalto, respinto con perlite. Allora decide di far costruire una sorta di circombalazione lungo la via Valvia e posizionare delle piazzone per l'artiglieria. Insomma, un assedio vecchio stile. Come detto, un controsenso per un demone della velocità come lui. Gli inglesi proveranno un paio di volte a forzare l'assedio di Tobruk. La prima va male. La seconda, invece, quando si avvicina all'inverno, con l'operazione Crusader, che porta il nome del nuovo carro incrociatore degli inglesi, ebbene, quella va a buon fine. Gli inglesi riescono dopo tanti mesi a rompere l'assedio, la cintura, attorno a Tobruk e a ricacciare indietro Rommel, che nel frattempo ha dato fondo a tutte le riserve, sia dei tedeschi che degli italiani. Al punto che deve ritornare dal punto di partenza, ad Agedabia, nel fondo della Sirtica, da dove era partito a fine marzo precedente. Tutto perduto un'altra volta. Tutto da riconquistare di nuovo. E Rommel lo riconquista. È questo che stupisce gli osservatori. Stupisce i giornalisti anglo-americani, che lo definiscono un genio. E affascina la propaganda tedesca, che conia quel nomignolo, volpe del deserto. È un nomignolo che viene cavalcato dalla stampa. Basta dire, arriva Rommel e gli inglesi si impauriscono. Quella cavalcata attraverso la Cirenaica li ha scottati, li ha feriti. E quando arriva la primavera del 42, Rommel si rimette in marcia. Un'altra volta. Questa volta si concentra su un calderone, quello di Aynel Gazzala, la fonte della gazzella. È lì che lui dà battaglia in maniera totale, girando, rigirando le sue truppe, facendole correre una direzione, poi nell'altra. Non dando punti di riferimento alle varie brigate inglesi, indiane, sudafricane, che cercano in ogni modo di scappare da una trappola infernale. Ci sono anche i francesi della legione, della Francia libera, comandati dal brigadier generale Koenig. Contro questi francesi se la deve vedere la divisione Ariete, la vecchia compagna ad armi nel deserto di Rommel. Ma l'Ariete si impantana su un giardino del diavolo, una distesa di mine, davanti al capo tricerato di Birakeima, dove ci sono i francesi. Lo stesso Rommel rischia due volte la pellaccia, perché a forza di esporsi col suo veicolo semicingolato rischia di finire sotto il tiro degli inglesi, e il suo aiutante di campo, il colonnello Bayerlein, più di una volta lo soccorre, e a un certo punto anche lui perde di vista l'Ariete. Quando incrocia una corona italiana, chiede Bisensivo Sted di Ariete Division, avete visto la divisione Ariete? No, non l'ha vista nessuno. Ci vuole un po' perché l'Ariete riesca a sganciarsi da Birakeima, dove tra l'altro i francesi scappano di notte. L'obiettivo di Rommel, una volta ripresa tutta la Cirenaica, è di liquidare Tobruk. Gli serve Tobruk. Gli serve come base logistica fondamentale per quello che è il suo ulteriore piano, partire all'assalto dell'Egitto. A differenza di quello che era avvenuto l'anno prima, non ci sono gli australiani di Moorhead dentro Tobruk, ci sono dei volontari polacchi, ci sono dei sudafricani, ci sono i resti di una brigata indiana. Non sono quelli che erano diventati famosi come i topi di Tobruk, non sono i difensori arcigni che avevano obbligato Rommel a un assedio vecchio stile. E questa volta Rommel ce la fa a prendere Tobruk. Manda avanti i guastatori, gli italiani del 31esimo battaglione, comandati dal maggiore di Sillavengo. Sono loro ad aprire i varchi per i carri nei campi minati. E quando finalmente Rommel può vedere Tobruk è impaziente come un bambino, non vede l'ora di prenderla tutta. Anche perché dentro Tobruk trova un tesoro. È un tesoro sotto forma di veicoli, benzina, viveri, acqua potabile, addirittura uniformi inglesi e diesel boots, gli stivaletti dal deserto fatti apposta per le truppe anglo-americane. Con tutto quello, un vero ben di Dio, Rommel può rivestire quella che ormai è diventata la Panzer Armée Africa e non più semplicemente il primo nucleo del Deutsche Africa Corps, come un altro esercito inglese. Alcuni osservatori diranno che c'erano due eserciti inglesi nel deserto in quei giorni, uno in fuga verso Oriente e un altro che lo tallonava le calcagne. Cosa un po' buffa. Sembra che Rommel in quei giorni di inizio estate del 42 sia inarrestabile. Gli inglesi scappano, ma Rommel ha fatto male i conti. Ha fatto male i conti perché non sa o non ha ben capito quanto sia importante la distanza, soprattutto per i rifornimenti. Perché se gli inglesi avvicinandosi ad Alessandria d'Egitto accorciano le linee di rifornimento e possono contare sempre di più su forze fresche e su nuovi materiali. Da Tobruk fino ad El Alamein, dove si ferma l'avanzata italo-tedesca, la strada è molto lunga. Molto lunga e non comoda. Anche perché è battuta dall'aviazione, dalla RAF. Ah, El Alamein si impantana. Rommel. Si impantana perché il primo assalto va male. Gli inglesi tengono. Il secondo, la battaglia di Alamalfa, è un massacro. L'ultima divisione italiana a provare a sfondare è la meccanizzata Trieste. arriva al massimo a quella che oggi è nota come quota 33. Lì, uno dei carri degli M13 di cui è dotata la Trieste incassa una pillola inglese e viene bloccato. È il massimo punto dell'avanzata italo-tedesca in Nordafrica. Da quel momento in avanti, Rommel è costretto a fermarsi. Fermarsi non solo a livello militare, nonostante abbia chiesto più e più volte a Hitler di mandargli rinforzi, ma la campagna in Russia ha prosciugato le risorse dell'esercito tedesco. Quindi Rommel può contare solo su un'altra divisione di rinforzo, di fanteria motorizzata, e sulla brigata ramiche, i diavoli verdi del generale dai denti d'acciaio, dei paracadutisti che dovevano prendere Malta e che sono stati deviati nel deserto come fanteria appiedata. Rommel deve fare i conti anche con problemi fisici. Soffre, Rommel. Soffre per emicrania, insonnia, bassa pressione e soprattutto un'infezione al fegato. Per questi motivi viene richiamato in patria per curarsi. Al suo posto viene messo un condannato a morte. Il generale Georg Stümmel, un generale che proprio in Russia aveva ottenuto dei risultati scadenti, anzi sembrava secondo alcuni che avesse favorito il contrattacco dei sovietici. Per questo motivo Hitler aveva ordinato di inviarlo alla corte marziale per una punizione esemplare che si era tradotta in una condanna a morte, sospesa per inviarlo al comando della Panzer Armée Africa. Un dead man walking, un morto che cammina a sostituire la volpe del deserto. Tra l'altro Rommel, quando è in licenza a casa in Germania per curarsi, chiede comunque informazioni. Viene rassicurato. Lo rassicura Ritter von Thoma, il vice comandante lasciato in Africa. Gli dice che tutto sommato è tutto sotto controllo. La linea di difesa è stata predisposta, le divisioni tedesche vicino alla litorale, quelle italiane nel mezzo, a sud i paracadutisti, la Folgore e Ranke. Non dovrebbe accadere nulla, anche perché poi verso sud c'è la depressione di Catara, una zona impraticabile per i carri. In realtà sono mesi che gli inglesi stanno ottenendo tante, tante, tante risorse in più, di uomini e soprattutto di materiale. E quando a fine ottobre si scatena l'offensiva inglese per l'armata italiana tedesca, è la fine. Stum muore già il primo giorno della battaglia. Si dice che sia stato sorpreso all'uscita della propria tenda da un proiettile in fronte. Verità, leggenda, quello che è certo è che Stum muore subito e soprattutto per un paio di giorni non si sa nulla di lui. Comparso nel nulla finché non si trova il suo cadavere, semisommerso dalla sabbia. Ritter von Thoma viene catturato dagli inglesi. Esce con le braccia alzate dalla buca dove era il suo comando. Rommel rientra in tutta fretta per cercare di salvare il salvabile, ma capisce che non c'è nulla da fare. Troppo ampia la differenza di materiale, troppo ampia anche la differenza in termini di uomini a disposizione, soprattutto uomini freschi, riposati. Le sue truppe sono logore. Le truppe italiane poi in larga parte non sono motorizzate e quindi ci si deve ritirare. Via, lungo la litoranea. A coprire la ritirata saranno la Trieste, che si sacrifica completamente, la Riete, che salva pochissimi carri e per il resto viene distrutta, la Folgore e i diavoli verdi di Ramache. Questi ultimi hanno la fortuna di intercettare nel deserto una colonna di riferimento degli inglesi. Viene assaltata, gli autisti lasciati in mezzo al deserto e i paracautisti tedeschi riescono a squagliarsela e a ricongiungersi con il resto dell'armata in fuga. La Folgore, invece, comandata dal generale Frattini, resta sul posto con degli atti di eroismo, a volte anche esagerato. Vedono i paracautisti che bomba a mano in pugno assaltano i carri per cercare di salire sulle torrette e sganciare la bomba all'interno del carro. Molti muoiono tentando questa impresa. Rommel a quel punto, anche se gli arrivano ordini di attestarsi a difesa, cercare un punto in cui fermarsi, questa volta tira dritto. Non si ferma Sidia Barrani, non si ferma Bardia, non si ferma Tobruk, non si ferma Abengasi. Gli chiedono di difendere almeno la Tripolitania, ma gli sbarchi avvenuti con l'operazione Torch in Marocco fanno intendere che questa volta le cose andranno diversamente. Col passare delle settimane, Rommel risale tutta la Tripolitania e arriva in Tunisia, la occupa e proprio in Tunisia coglie l'ultima sua grande vittoria, al passo di Kasserin, dove si confronta per la prima volta con gli Sherman americani. I americani che fanno la conoscenza di Rommel e devono ammettere che pur nel caos di una battaglia abbastanza complessa dovuta anche a un terreno di scontro dominato dalle rocce, ebbene sì, quel generale sarà anche imprudente, gli piacerà anche giocare d'azzardo, però a volte le sue puntate sono positive. Ma anche la Tunisia è indifendibile. Rommel rientrerà in patria per ordine diretto di Hitler, che non vuole che il suo generale, tanto beatificato dalla stampa nei due anni precedenti, cada in mano nemica. Sul posto verrà lasciato Giovanni Messe, maresciallo d'Italia, nominato maresciallo d'Italia all'ultimo, per anche lui salvare almeno la faccia, perché d'altronde nemmeno la Tunisia è salvabile da parte delle ultime formazioni italo-tedesche, che fino all'ultimo impiegano tutto il materiale a disposizione, che è sempre di meno, nonostante l'afflusso di Panzer IV e di nuovi semoventi d'artiglieria italiani, per rallentare l'inesorabile avanzata degli alleati. Rommel torna nel continente e avrà altri incarichi, prima la difesa dell'Italia e l'occupazione dopo l'8 settembre, poi un'altra opera difensiva. Lui che era così a suo agio sia sul fronte offensivo che nelle manovre movimentate. No, doveva sovrintendere al completamento e alla difesa del Pallo Atlantico, le fortificazioni ordinate da Hitler per prevenire un'eventuale invasione da parte degli angloamericani. Invasione che era già stata testata senza successo a Dieppe e che avverrà in Normandia nel giugno del 44, proprio mentre Rommel tra l'altro è licenza a casa dalla moglie. La sera prima era partito dal suo quartier generale al castello di La Roche-Guillonne tranquillizzando i suoi sottoposti. Tranquilli, non avverrà nessuna invasione, bassa marea, gli americani non rischieranno un attacco. Sbaglia, clamorosamente. E quando tornerà per cercare di coordinare un controattacco? Si scontrerà con diversi problemi, ad esempio con un collega comunque molto preparato come il nobile Geir von Schweppenburg che ritiene nella sua teoria militare che la riserva va concentrata al centro per un efficace utilizzo delle truppe corazzate, ma soprattutto si scontra con la volontà pervicace di Hitler di non concedere le riserve corazzate ammassate al passo di Calais. Poi avverrà dell'altro, avverrà quel mitragliamento lungo una strada da parte di un aereo alleato, i colpi ricevuti al corpo in testa, la convalescenza a casa, fino all'immersione del sospetto, anzi dell'accusa più infamante, quella di tradimento, di aver partecipato, anche se con un ruolo di secondo piano, al complotto del 20 luglio del 44, al complotto di von Stauffenberg, l'operazione Valkyria, ma di questo parleremo nel prossimo video.